Musica Ben trovati in questo nuovo appuntamento con l'informazione di Licata News. Si sono svolti ieri i funerali di Paolo Todaro e Sara Camilleri, la coppia di giovani e fidanzati licatesi morti in un incidente stradale. Circa 5.000 persone hanno preso parte alla funzione religiosa ufficiata da padre Angelo Fracica. È stato dato ieri pomeriggio in Chiesa Madre l'estremo saluto a Paolo Todaro e Sara Camilleri, la coppia di fidanzati licatesi di 30 e 25 anni, deceduti a seguito dell'incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di lunedì, in prossimità della Curva dello Scoglio, in località Poggio di Guardia. È stato padre Angelo Fracica ad ufficiare la Santa Messa celebrata all'interno di una Chiesa Madre gremita come non mai. Circa 5.000 le persone che, malgrado le condizioni meteorologiche proibitive, hanno voluto augurare l'eterno riposo alla coppia di sfortunatissimi fidanzati. Ragazzi, giovani, coetanei di Paolo e Sara, ma anche mamme di famiglia e anziani, hanno affollato le due ampie navate della matrice in una cerimonia religiosa che è stata vissuta all'insegna del cordoglio, della commozione e di un comprensibile raccoglimento dei familiari e degli amici più intimi. L'uscita delle bare dalla porta laterale prospicente, il lato di Piazza Duomo, è stata salutata con un lungo e commosso applauso dalla moltitudine di persone intervenute alla funzione religiosa. Il corteo con i due feretri si è poi mosso alla volta della camera mortuaria di Via Marianello, dove è arrivato a Passo Duomo intorno alle ore 18.30. Si è conclusa così una giornata di passione, osservata e vissuta con particolare vicinanza da tutta la città che si è stretta attorno ai familiari dei due giovani in maniera forte, per un ideale abbraccio e per testimoniare una vicinanza che, mai come questa volta, non è stata solo a parole. L'impressione è che adesso davvero non possono più essere rinviati gli interventi di sistemazione di una strada, la strada alle 115, che troppe vittime ha già fatto negli anni. Non si tratta di un'arteria secondaria, ma di una strada extraurbana che quotidianamente viene attraversata da un numero elevatissimo di veicoli. Tanti i messaggi di questo tenore che abbiamo letto e sentito dire da licatesi di tutta l'età, incapaci di darsi una ragione per due morti assurde. E intanto nasce il comitato 16 febbraio per chiedere degli interventi alla strada statale 115. Angelo Vincenti, fra i promotori dell'iniziativa. Sentiamo. All'indomani della tragedia che ha scosso la città di Licata, nasce il comitato 16 febbraio, un comitato spontaneo che lotterà per ottenere ciò che la comunità europea chiede da qualche tempo per raggiungere gli obiettivi in termini di sicurezza stradale. A fondarlo, Angelo Vincenti insieme ad altri cittadini licatesi. Il comitato ha già indirizzato due missive, una al commissario straordinario del comune di Licata, Maria Grazia Brandare, una al presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta. Ieri la città di Licata ha pianto l'ennesima morte di due suoi figli, scrive Angelo Vincenti, a causa di un incidente stradale che poteva e doveva essere evitato se quella maledetta strada fosse stata sicura. La statale 115 da sempre è stata considerata tra le più pericolose della Sicilia e ad oggi continua ad esserlo. Chi ha responsabilità deve pagare. Bisogna denunciare quel silenzio e mancati interventi per la messa in sicurezza della 115. Una strada con un manto stradale disastroso, con lunghi tratti senza neanche guardrail, senza protezioni o interventi per evitare che il fanco invada la carreggiata durante la pioggia è soprattutto piena di curve pericolosissime. Ogni anno su quella strada decine di incidenti provocano la morte di tanti giovani e lo strazio di tante famiglie, ha scritto Vincenti nella nota indirizzata al presidente della regione sicilia, Rosario Crocetta. Ed è proprio per questo che le chiediamo un intervento immediato per far sì che la nostra gente non continui a veder marire su quella strada il nostro futuro. Le chiedo di agire e farlo in fretta, ha scritto invece Vincenti al commissario straordinario Brandara, attivando tutte le procedure che possono finalmente dare un po' di serenità a questa comunità, ma soprattutto giustizia a tutti quei giovani strappati alle famiglie e ai loro amici. Intanto un'ambulanza dell'Associazione Santa Lucia ieri pomeriggio si è ribaltata lungo la strada statale 115 all'altezza dello svincolo con la 626. Due operatori a bordo del mezzo sanitario sono rimasti illesi. L'ambulanza era stata utilizzata per un trasporto verso Licata. Il paziente era già stato accompagnato dai due operatori che stavano ritornando in città. Il fascicolo sull'omicidio di Salvatore Terranova, il commerciante ucciso ieri sera in piazza Crispi a Naro, è passato al DDA di Palermo. Almeno sei sarebbero i colpi di pistola esplosi da un'automatica, tre dei quali sono andati a segno freddando Terranova, che appena dopo aver chiuso il negozio di Casalinghi è stato raggiunto dal sicario mentre era in procinto di accendere l'auto per tornare a casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia coordinati dal sostituto procuratore Santo Fornasier. Maxi furto di caffè ad aggrigento. I gnoti probabilmente la notte tra lunedì e ieri hanno forzato la saracinesca di un deposito di caffè al villaggio Mosè e una volta dentro hanno portato via dieci macchinette tra apparecchiature professionali e non. E' oltre 250 scatole per un totale di circa 5 tonnellate di caffè. Ad accorgersi del furto ieri pomeriggio sono stati i titolari della stessa ditta. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione volanti della questura di aggrigento diretti dal commissario capo Tommaso Amato, che hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori del furto. Il danno è ancora in corso di quantificazione, ma tutto lascia pensare che possa abbondantemente superare i 30 mila euro. Quartieri e strade di Licata allagate a causa delle abbondanti piogge di queste ore. Sentiamo i particolari in questo servizio. Allagamenti in diverse aree della città di Licata, auto in panne, problemi di viabilità. E' questo lo scenario in cui si è svegliata Licata stamattina dopo le abbondanti piogge che si sono registrate nella giornata di ieri e che incessanti perdurano ancora adesso. Per l'ennesima volta la solita situazione si è registrata in Viale 20 Settembre, Via Nazario Sauro, Largo San Salvatore, totalmente invase dall'acqua, impedendo il transito a pedoni e veicoli. Stessa sorte anche per Piazza Gondola e per il quartiere Playa e Via Perconti, aree allagate la cui condizione sta creando notevoli disagi ai residenti che da anni lamentano la problematica che puntualmente si presenta. Auto in panne anche in via Guido d'Arezzo. Intanto la protezione civile in queste ore perlustra il territorio per la tutela dell'incolumità dei cittadini. Necessaria, data la quantità della pioggia, è stata l'attivazione della pompe drovo Ravarisco in Corso Argentina, in modo da assorbire e da sportare la massa d'acqua, ove possibile, che si è abbattuta in città. L'Ufficio Comunale di Protezione Civile, diretto dall'architetto Giuseppe Ferraro, si sta avvalendo della collaborazione dei volontari della Guardia Costiera Ausiliaria e di altre associazioni. Nessuno è stato d'allerta, ma nonostante ciò anche gli argini del fiume Sasso sono monitorati costantemente dalla Protezione Civile, affinché non venga superato il livello di guardia. Si prevede che già da domani il tempo dovrebbe migliorare, per poi subire nuovamente un peggioramento nel fine settimana. Ancora nulla di fatto per quanto concerne la sistemazione della passerella in legno, che dovrebbe permettere l'accesso alla torre cinquecentesca del Castel Sant'Angelo. Un gruppo di turisti, giunti in città sabato scorso, non è riuscito a salire sulla torre, da cui si gode la meravigliosa vista del territorio licatese, proprio a causa dell'impossibilità di utilizzare la passerella di legno. La sistemazione di questo importante strumento di comunicazione tra i due ambienti del sito viene chiesto ormai da diverso tempo, sia dalle associazioni di valorizzazione del territorio operante in città, che dagli stessi turisti, ai quali rimane l'amaro in bocca per non riuscire a salire sulla sommità di Castel Sant'Angelo. Per adesso, quindi, le visite devono limitarsi solo alla torre. L'Associazione Spazio Libero e il gruppo consigliare ora Licata Lab si trovano a confrontarsi su un tema che li ha riguardati da vicino, il fondo librario antico e le scaffalature da inserire. Intanto il problema maggiore restano le infiltrazioni d'acqua dal tetto. Il servizio. Il fondo librario antico diventa oggetto di discussione. Delle condizioni precarie in cui versa si era occupato alcuni giorni fa il gruppo consigliare ora Licata Lab che ne aveva evidenziato soprattutto la mancanza di scaffalature dove poter posizionare libri e volumi che risalgono a diversi secoli fa, in modo da non comprometterli ulteriormente. Sulla vicenda si è registrato l'intervento dell'Associazione Spazio Libero che ha replicato alla richiesta di Armando Sorce, Violetta Callea e Angelo Iacona. Vogliamo ricordare, dicono i rappresentanti dell'Associazione Spazio Libero di cui è presidente Mariolina Bafumo, che lo scorso 23 dicembre con il patrocinio del Comune la nostra associazione ha organizzato un triangolare di calcio a scopo benefico grazie alla collaborazione delle vecchie glorie dell'Icata Calcio, dell'Atletico Licata e delle forze di polizia e carabinieri e con i fondi raccolti si è pensato di far realizzare da una ditta alicatese proprio delle scaffalature da destinare al fondo librario antico che verranno installate il prossimo mese. Oggi arriva la replica dei tre componenti del gruppo Oralicata Lab. Siamo bellieti che tutti associazioni, redazioni giornalistiche, carabinieri si collabori per portare avanti la risoluzione dei piccoli, grandi problemi della nostra collettività. Da parte nostra possiamo di certo confermare che in questa pur breve legislatura abbiamo fatto il possibile per portare avanti la ricerca di soluzioni per le tante problematiche della nostra città. Siamo venuti a conoscenza, soprattutto da studenti, dicono Sorce, Callea e Iacona del grave degrado in cui verse il fondo librario antico e proprio per questo ci siamo attivati per inserire la richiesta di una sua tutela e valorizzazione nell'ambito degli incontri e delle richieste che il nostro ruolo istituzionale ci obbliga a portare avanti e ci dispiace, concludono i tre componenti di Ligata Lab, che qualcuno si sia sentito derubato di una paternità sull'argomento. Intanto, a causa delle abbondanti piogge di questi giorni, è stata evidenziata da colore quali operano all'interno del fondo librario antico la presenza di infiltrazioni di acqua dal tetto, problematica che va oltre ai batti e ribatti, alla quale occorre trovare una veloce soluzione. E domani alle 16 in Piazza Progresso, in occasione dell'arrivo a Ligata del simulacro della Madonna Pellegrina di Fatima, il commissario straordinario del Comune, Maria Grazia Brandara, darà lettura dell'atto di affidamento della città di Ligata alla Madonna di Fatima. L'iniziativa rientra nel più vasto programma patrocinato dal Comune di accoglienza della città di Ligata al simulacro della Madre di Cristo, predisposto dall'unità pastorale San Domenico Carmine, guidata dal canonico Giuseppe Scandrone. La statua resterà allicata sino al 25 febbraio, dal 19 al 21 presso la chiesa del Carmine, dal 22 al 25 presso quella di San Domenico. E adesso un'occhiata alla programmazione di Canale 10. Oggi alle 15 nuovo appuntamento con la rubrica Medical News. Ospite il dottore Domenico Cuttaia, con cui parleremo di tabagismo e malattie bronchiali. In replica domenica alle 13 e lunedì alle 22. Invece stasera alle 21 potrete assistere al programma di informazione e approfondimento giornalistico Il Punto. Ospiti in studio Silvana Scandrone, Mariolina Di Salvo, Vera Cantavenere ed Esterrizzo. La replica della puntata andrà in onda sabato alle 21. Inoltre già da domani, da domani sera nello specifico, potrete visionare entrambe le puntate sui nostri canali Vimeo, Youtube, Facebook, Twitter e Google+. Adesso il Fly Cinema. Dal 12 febbraio al Fly Cinema. 50 sfumature di grigio. 50 sfumature di grigio racconta la relazione tra la studentessa del college Anastasia Stil e il miliardario 27enne Christian Grey. I romanzi successivi della serie 50 sfumature di nero e 50 sfumature di rosso esplorano in profondità il rapporto tra i due protagonisti. 50 sfumature di grigio è l'adattamento cinematografico del bestseller diventato un fenomeno globale. La trilogia 50 sfumature, dalla sua nascita, è stata tradotta in 51 lingue in tutto il mondo e ad oggi ha venduto oltre 100 milioni di libri e e-book, diventando da subito una della serie più acquistate di sempre. Il film sarà trasmesso tutti i giorni alle ore 18, alle ore 20 e alle ore 22. A causa delle enorme richieste ricevute si consiglia inoltre l'acquisto del biglietto in prevendita per avere la sicurezza del posto e per evitare code. Trailer e biglietteria online su www.flycinema.it La rubrica degli eventi del mese e la pubblicità tra poco. Dal 3 al 28 febbraio la tua spesa vale di più. Fai due acquisti nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì. E con un euro ti rimborsiamo quello di minor valore in buoni acquisto. Centro commerciale in Porto. La promozione è servita. Questo programma è offerto da Sportline in via Palma 27 a Alicata Agri Garden di Agostino Mugnoz Via Palma 312 a Alicata Domani Alicata cieli in prevalenza poco nuvolosi salvo addensamenti compatti nelle ore centrali non sono previste piogge Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14 gradi la minima di 9 gradi I venti saranno al mattino moderati e proverranno da est-nord-est al pomeriggio deboli e proverranno da est Mare mosso Umidità oscillante tra il 53 e il 77% Questo programma vi è stato presentato da Ristorante Pizzeria all'Opera 615 con trada a Saffarello a Alicata Entriamo in studio con la seconda parte del telegiornale Il sindaco Pasquale Amato spiega il cambio di guardia nell'ambito della giunta a Palma di Montechiaro Sentiamo Delucidazione ha inteso a offrire alla cittadinanza di Palma di Montechiaro il primo cittadino Pasquale Amato Sulla sostituzione dell'ex assessore Vincenzo Salerno Le cui deleghe sono state almeno per il momento trattenute dal sindaco Con il consigliere comunale Caloggio Ralotto Che manterrà il ruolo di consigliere Cui sono state affidate le deleghe all'agricoltura, alle manutenzioni, ai servizi ambientali esterni e ai tributi Il sindaco spiega in maniera chiara che la ragione principale che ha spinto verso la nomina di Alotto È la necessità di dare centralità all'agricoltura Settore produttivo principale per il territorio La prima azione infatti che sarà portata avanti dal neo insediato assessore Alotto Sarà quella di sollecitare il consorzio di bonifica per l'irrigazione dei terreni agricoli Attraverso le acque invasate della diga Furore e in quella di San Giovanni Una perdita importante è quella di Salerno nonostante l'ottimo lavoro svolto Ma che doveva essere sacrificato al fine di dare spazio ad un settore altrettanto importante In previsione anche un'inversione nel settore tributi Dove sarà necessario effettuare un controllo puntuale su tutte le attività Cosa che ad oggi non è stato possibile Ma anche come annunciato da Amato Raggiungere l'obiettivo di ottimizzare le risorse nel settore delle manutenzioni delle strade e del verde pubblico Il cui servizio attualmente è al di sotto di una soglia di accettabilità Sia per mancanza di produzione che per carenza di impegno Dato che fin qui c'è stata un'inadeguata capacità, dice lui stesso, di controllo e organizzazione del personale La storia del palazzo della provincia di Agrigento rivive attraverso un percorso grafico e documentale Che ne ricostruisce monumenti e momenti anche più importanti Dalla progettazione fino alla realizzazione finale E alla sua apertura risalente al 31 agosto del 1869 La mostra che sarà visitabile nella scala reale fino al mese di marzo È stata inaugurata questa mattina dal commissario straordinario del libero consorzio Alessandra Di Liberto Alla presenza tra gli altri del prefetto Nicola Di Omede Espone disegni e progetti originali di quello che fu definito dallo storico e agrigentino Giuseppe Picone Il magnifico palazzo ma anche stampe, mappe e antiche fotografie che ripercorrono lo sviluppo urbanistico del centro agrigentino Dove sorge appunto il palazzo della provincia Inizialmente destinato al reale ospizio di beneficenze E assegnato all'amministrazione provinciale dopo l'avvento dell'unità d'Italia Diamo adesso lettura di un commento dell'associazione anti-racket Libero Futuro Agrigento La sentenza di corte d'appello del processo cosiddetto nuova cupola Aiuta a mettere in evidenza anche in questa circostanza il ruolo degli operatori economici Che hanno denunciato affidandosi allo Stato e ai suoi rappresentanti Siamo stati e saremo vicini a chi ha scelto di lavorare senza condizionamenti Circostanza che ribadiamo per valorizzare le azioni dello Stato Che assume la responsabilità di tutelare chi denuncia e riconosce i propri aguzzini nelle aule di giustizia Desideriamo ribadire che abbiamo perfetta consapevolezza di ciò che in troppi casi succede a chi denuncia Ed è per questo che desideriamo comunicare che continueremo a stare vigili e attenti Sapendo che tutto ciò avviene in un contesto inquietante sotto un profilo socio-economico La European Top Model, una prestigiosa agenzia internazionale di moda con sede in Belgio Ha scelto come terza tappa italiana la Sicilia per la presentazione dell'International Calendar 2015 In particolare la presentazione avrà luogo domani presso il ristorante e sala trattenimenti Madison a Real Monte Nella prestigiosa cornice della Scala dei Turchi Saranno presenti i membri dello staff belga e italiano della ETM Nonché i referenti della Sicilia, Antonella Speziale e Lillo Arcieri Oltre all'International verrà presentata anche la versione Italy del calendario Per l'occasione i referenti siciliani dell'ETM Antonella Speziale e Lillo Arcieri sono stati già ospiti del Bepi Show Radio in Agrigento In chiusura allo sport, il basket, ottimo momento per gli esordienti della gestistica ligata Che hanno chiuso al primo posto il girone d'andata del proprio torneo provinciale di categorie Sentiamo E' stata una prima parte di stagione coi fiocchi per la gestistica ligata del presidente Peppe Lanzerotti La selezione esordienti riservata ai nati nel BNU 2003-2004 guidata dall'istruttore Adriano Ancona alla fine del girone d'andata in testa alla classifica punteggio pieno avendo vinto tutte e cinque le partite disputate I giovani atleti ligatesi sono inseriti in un girone provinciale che è formato da Real Basket Agrigento Arca di Noè Agrigento, Piccole Stelle Licata, Basket Ribera, Ravanusa e appunto dalla gestistica ligata Risultati lusinghieri quindi in questa prima parte di stagione con il proseguo del campionato che si prospetta all'insegna della stessa musica L'impressione è che a meno di clamorosi e ad oggi improbabili colpi di scena gli esordienti della gestistica ligata chiuderanno al primo posto il loro girone provinciale aprendosi così le porte della fase regionale dove avranno modo di confrontarsi con le vincitrici degli altri gironi delle varie province dell'isola Nell'ultima gara disputata i ragazzi di Coacciancona si sono imposti a Ravanusa Per la società del presidente Peppe Lanzerotti le soddisfazioni non arrivano però solo dagli esordienti anche l'Under 13 è infatti in un ottimo momento di forma e viene da due successi consecutivi maturati contro Real Basket Agrigento 71-23 il punteggio finale e contro Gela 36-56 Questa era l'ultima notizia, grazie per la vostra cortesa attenzione Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti